Buonasera, buonasera sono Gloria Marini e dalla città di Vicenza vi do il benvenuto a nome del centro di produzione teatrale La Piccionaia a questo incontro intitolato Agroecologia e politica agricola comune, bilancio sul Green Deal alla vigilia delle elezioni europee. Siamo qui ospiti della pagina Instagram di VETS Veneto Ecologia Generazione Z che ringraziamo insieme agli IES e a tutti i partner che hanno collaborato a questo evento che sono la Comunità Vicentina per l'Agroecologia, il Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani e l'Assemblea Cascina Carpaneda Bene Comune. Questo è il primo appuntamento di una serie che si svolgerà all'interno di un progetto intitolato Take a Step dove STEP sta per Sustainable Territories and European Participation. È un progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il bando Citizens Voice promosso da ALDA, Associazione Europea per la Democrazia Locale. Si tratta di un progetto che tiene assieme la dimensione locale, in particolare per coinvolgere i cittadini sui temi ambientali del territorio e la dimensione europea, quindi per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Unione Europea e in particolare la partecipazione al voto in occasione delle elezioni che si terranno l'8 e il 9 giugno. Quindi stando in questa doppia dimensione locale ed europea e anche per vedere quanto in realtà queste due dimensioni siano vicine. Chiediamo avvio a questo incontro che durerà un'ora e quindi senza rubare altro tempo passo la parola alla giornalista di VETS, Lorenza Zago. Ciao a tutti e a tutte, ciao Gloria, grazie mille. Io, come detto tu e anche un po' per riprendere il titolo di questo incontro, stasera parliamo di agroecologia e politica agricola comune e soprattutto a una decina di giorni dalle elezioni europee dell'8 e del 9 proviamo a fare una sorta di bilancio sul Green Deal, quel programma che nello scopo dovrebbe portare l'Europa verso la transizione verde. Questa sera facciamo questo bilancio, questo focus insieme a due ospiti di VETS, la prima è Caterina Batello e Riccardo Bocci, secondo invece. Ciao a tutti e due. Ve li presento brevemente, sicuramente mi dimenticherò qualcosa delle loro biografie però insomma spero di aver segnato le cose principali. Caterina è esperta di agroecologia e fa parte del consiglio direttivo di Agroecology Europe ed ha lavorato per la gran parte della sua carriera nell'ambito dello sviluppo agricolo internazionale ed è autrice di diversi libri e articoli dedicati alla gestione della biodiversità e degli ecosistemi. Mentre Riccardo Bocci è direttore tecnico di Rete Semi Rurali, si è occupato anche di progetti di cooperazione allo sviluppo per la conservazione e valorizzazione della biodiversità e ha curato anche diverse pubblicazioni come Caterina però sull'agricoltura e sull'impatto dell'agrobiodiversità e sull'impatto degli OGM sui sistemi agrari. Come diceva Gloria abbiamo un'oretta di tempo giusta per provare ad affrontare e approfondire i temi che vi ho accennato prima. Io inizierei subito a entrare nel vivo un po' con voi due così vi lasciamo lo spazio insomma per poter rispondere a qualche domanda che abbiamo preparato insieme. Mi rivolgerei prima di tutto a Caterina, quindi inizierei da te e partirei da una domanda semplice nella domanda ma sicuramente complessa nella risposta, cioè cosa prevede il Green Deal europeo, se puoi magari darci un po' di dicenni e soprattutto quali sono stati i passi fatti negli ultimi cinque anni per quanto riguarda la biodiversità e invece cosa è successo negli ultimi mesi, quindi se riusciamo a fare un po' un excursus da cinque anni ad oggi, che cambiamenti ci sono stati, mi viene in mente ad esempio la Natural Restoration Law per la quale il Consiglio europeo ha rinviato il voto definitivo a data da destinarsi se non sbaglio, per cui se riesce a darci un po' quadro rispetto a questo focus. Ciao, va bene, posso incominciare e grazie a tutti per l'attenzione. Incominciamo dicendo che l'agricoltura si mangia una fetta enorme del budget dell'Europa, per cui è legata a triplo filo con quello che sta succedendo in Europa, si mangia fra un terzo e la metà del budget totale dell'Europa e subito dopo le elezioni scorse c'erano state dei bellissimi tentativi di uniformare quello che sono gli aspetti agricoli, di produzione agricola. L'Europa ha da sempre anche cercato di assicurare che i suoi cittadini avessero a disposizione abbastanza cibo, ecco perché sono partite tutte le sovvenzioni all'agricoltura e allo stesso tempo che l'agricoltura fosse anche in grado di ridurre il suo impatto ambientale. Sappiamo che l'impatto ambientale per esempio sul cambiamento climatico dell'agricoltura produce un terzo delle emissioni di tutta l'agricoltura, di tutte le emissioni dell'Europa sono prodotte dall'agricoltura, per cui degradazione dei suoli, degradazione delle acque, inquinamento, diciamo che l'agricoltura è un po' vittima e allo stesso tempo è anche un po' carnefice di tutto ciò che è ambientale, per cui hanno velocemente sviluppato questo Green Deal che aveva delle promesse molto interessanti per l'agricoltura, riduzione del 60% dei pesticidi, meno antibiotici nell'alimentazione dei bestiame, soprattutto il bestiame allevato in modo intensivo, 10% delle superfici mantenute a biodiversità e cose di questo tipo, per cercare di fare un collegamento e cercare di portare l'agricoltura verso un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura che fosse in grado di continuare a produrre e alimentarci e darci la nostra sicurezza alimentare europea e allo stesso tempo fosse anche promotrice di un nuovo modello di agricoltura sostenibile. E si è lavorato tantissimo in questa direzione. Cosa è successo? Negli ultimi mesi sono partite queste manifestazioni abbastanza anche manovrate degli agricoltori a cui, con una composizione molto diversa di questi agricoltori, quelli di Bruxelles erano diversi da quelli francesi, da quelli italiani, non si capiva chi fossero, certamente pochi erano i piccoli agricoltori, gli agricoltori agroecologici, gli agricoltori biologici che partecipavano a queste manifestazioni. Quali erano di fatto le grandi richieste? Fare in modo che ci fosse meno burocrazia per avere accesso ai fondi e fare in modo che i prezzi che vengono pagati agli agricoltori fossero più alti perché gli agricoltori dicevano noi così non ci stiamo dentro. Con chi se la sono presi? Con l'ambiente. Questo chiaramente dal nostro punto di vista è stato un grande sbaglio ed è stato in qualche modo anche una grande manipolazione. Non è certamente l'ambiente che fa aumentare il prezzo dei fertilizzanti, non è certamente l'ambiente con la protezione della biodiversità che impedisce la produzione agricola, anzi la biodiversità sostiene la produzione agricola. Per cui nel giro di pochi mesi sono stati stravolti tutta una serie di regole come la regola per la biodiversità che era andata molto avanti, era arrivata al Consiglio, al Parlamento d'Europa, paff, bloccata nel giro con queste procedure di urgenza. Tra l'altro non del tutto legale non si capisce bene, ci saranno dopo le elezioni ancora parecchie discussioni perché tutto un tratto sono state bloccate le principali norme ambientali, per cui la norma su della biodiversità, dopo si parlerà un pochino di più su quello che è successo sulle norme dei pesticidi, tutto ciò che è antibiotici, tutto ciò che è benessere animale, il cercare di regolare l'utilizzo degli antibiotici e per diminuire l'uso, diciamo la produzione intensiva negli allevamenti di carne che ha effetti devastanti sul clima, sull'inquinamento delle acque, dei suoli e alla fine sulla salute umana perché gran parte di questi antibiotici rimangono nella carne, tutto fermo, tutto annullato, tutto cancellato nel giro di pochissimi mesi. Si stava facendo delle regole per cercare di capire come possiamo migliorare la fertilità dei nostri suoli, per cui sviluppare degli indicatori, degli indicatori europei che siano valide per tutti. Sappiamo che oggi come oggi in Europa fra il 30 e il 40 per cento dei nostri suoli sono degradati, per cui bisogna fermare questo degrado dei suoli perché in qualche modo se no la produzione non è più sostenibile, soprattutto non è più possibile. Niente, anche la legge sui suoli tutto fermo. Tutto fermo, in questo momento Bruxelles è bloccata, cioè noi andiamo regolarmente a parlare con le varie persone, fermo, non vale la pena parlare con nessuno, sono tutti in giro a fare campagna elettorale e per cui in qualche modo dopo questa elezione si dovrà ricominciare perché la PAC comunque deve andare avanti fino al 2027 e soprattutto si sta già pensando a come sviluppare la prossima. Vado avanti o mi fermo? Ditemi voi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro o se no passiamo, lo riprendiamo dopo se dici come preferisci. Riprendiamolo dopo, lasciamo parlare. Sì, così alterniamo anche un po' le voci. Riccardo, Caterina prima citava un po' l'obiettivo, uno dei pilastri del Green Deal che riguardava la riduzione dell'uso dei pesticidi chimici in agricoltura, ci ha detto appunto il dato di obiettivo come 60% della volontà di andare verso un'agricoltura sostenibile. Poi da come abbiamo appunto capito anche dalle parole di Caterina c'è stata una sorta di, senza sorta, una marcia indietro da parte dell'Unione Europea che è seguita anche appunto alle proteste dei trattori, di cui su Vets ne abbiamo anche scritto più volte. Io seguo un attimo il flusso della domanda che ho fatto a Caterina per rivolgerla a te, però con il focus appunto sull'uso sostenibile, tra virgolette, dei pesticidi. Cosa è successo in questi cinque anni e adesso cosa succede, nel senso che ho anche rispetto a questa marcia indietro? Sì, allora, grazie Lorenza e buonasera a tutti e a tutte e anche buonasera a Caterina. Allora, io preferirei affrontare la cosa guardando cosa non è stato fatto, perché in realtà il Green Deal è stato, come dire, un atto voluto dalla Commissione, voluto da Ursula von der Leyen quando è arrivata, molto spinto come una nuova visione dell'Unione Europea rispetto ai prossimi anni e poi però si è arenato miseramente dopo non solo le proteste dei trattori, dobbiamo mettere in fila altre due cose che sono soprattutto la guerra in Ucraina e il problema dell'inflazione che ne è derivato. Quindi questo è un po' il percorso che c'è stato e quello che non è stato fatto in questo percorso è che il Green Deal nel mondo agricolo è stato, come dire, mal sopportato. In qualche modo è stato imposto dalla Commissione dicendo che i cittadini volevano un ambiente diverso, un'agricoltura diversa e in qualche modo gli agricoltori avrebbero dovuto accettare tutto questo. Quindi i sindacati in questi anni, prima della guerra in Ucraina, hanno accettato queste proposte di riduzione dei pesticidi dal 30 al 50 al 60%, l'incremento della terra per la conservazione della biodiversità, una gestione diversa delle rotazioni, tutte queste misure diciamo così ambientali, erano state accettate dagli agricoltori malvolentieri, dai sindacati malvolentieri. E questo ha comportato che anche nei confronti poi dei singoli agricoltori non ci sia stata una spiegazione, un passaggio, un favorino, una transizione verso un altro modello. Quindi questi agricoltori si sono trovati in qualche modo abbandonati dal mondo sindacale, dal loro destino e nel momento in cui la crisi economica è arrivata, quindi l'aumento dei prezzi, dei fertilizzanti, dei pesticidi, un paio di politiche sbagliate in Germania, tutto questo ha causato la rivolta che poi ha portato quello che abbiamo visto e il tornare indietro da parte della commissione. Questo è successo perché nessuno ha preparato questi agricoltori che dovevano dall'oggi al domani, dopo 50 anni di chimica intensiva in cui gli abbiamo sempre raccontato che dovevano utilizzare fertilizzanti, pesticidi, prodotti chimici e acqua per fare agricoltura, dall'oggi al domani avrebbero dovuto fare a meno di questi pesticidi non conoscendo nessun'altra pratica agronomica per farne a meno. Quindi sicuramente c'è stata un'assenza di accompagnamento tecnico e sociale di queste misure politiche e questa colpa è sicuramente del mondo sindacale e degli stati membri. Il mondo sindacale a quel punto, non avendo mai approvato volentieri queste proposte della commissione, ha colto la palla al balzo nel momento in cui è cominciata la guerra in Ucraina per dire che non ci potevamo permettere di abbandonare un modello produttivista e che quindi avremmo dovuto tornare ad un'agricoltura in cui il principio è aumentare il numero di quintali ettari che produco e tutto il resto sono bazzeccole che non ci potevamo più permettere. Quindi ha cominciato già due anni fa a aumentare questa retorica e nel momento in cui sono scoppiate le proteste dei trattori, ha cavalcato questa protesta per far far dietro fronte alla commissione, anche perché si deve votare e quindi ognuno ha il suo elettorato di riferimento e ha ben pensato che era meglio non fare passi troppo in avanti avendo visto tutto quello che era successo. Quindi non sono state fatte tante cose, al di là di quelle che poi sono state fatte e sono state cancellate, ma per capire perché avrebbero dovuto essere fatte mi piace ricordare una cosa che mi ha raccontato un agricoltore biologico in cui noi lavoriamo, che mi ha detto che negli ultimi dieci anni nella sua zona, lui sta nella zona piemontese, gli ettari a biologico sono aumentati da 200 a 1000 ettari facendo tutto un distretto biologico. Ecco lui diceva guarda io ho fatto due conti e in questo territorio con questi ettari a biologico le ditte che vendevano mezzi tecnici per l'agricoltura, quindi i fitofarmaci, anche i fertilizzanti, più o meno stimo che abbiano perso un milione di euro. Ecco allora, quando il Green Deal vuol dire, come dire, provocare queste perdite ad alcuni attori economici grossi, senza pensare che questi attori economici grossi vanno, come dire, favoriti e con politiche per fare cambiare il prodotto che loro fanno, altrimenti difficilmente possono accettare di subire queste perdite e quindi approfittano di ogni momento buono per cambiare le politiche. E chiudo con una cosa che chi va a Bruxelles ogni tanto nota, è difficile entrare così vicino alla Commissione Europea se si fa una manifestazione. La polizia belga è particolarmente, come dire, coriacea e quindi aver visto quelle manifestazioni in cui i trattori hanno un po' spadroneggiato entrando addirittura vicino ai palazzi della Commissione, così in maniera abbastanza tranquilla, ci racconta come in qualche modo queste proteste siano state pilotate, secondo me, per portare alla fine la Commissione a cedere sul Green Deal e a rimettere in discussione tutti questi obiettivi. Quindi di sicuro i trattori sono stati un momento importante che ha dato in là questa spinta, ma senz'altro gli errori sono stati fatti prima, sia dalla Commissione che dai sindacati. Grazie mille Riccardo. Entrambi ci avete dato un po' un attimo il quadro attuale su quello che è stato fatto e soprattutto su quello che non è stato fatto. Io ci ritorno un attimo sul discorso che manca poco all'appuntamento con le lezioni europee, che è un appuntamento importante. Vi viene da chiedere a tutti e due, rispetto ai vostri focus, quali sono le prospettive dopo il voto sul Green Deal e anche l'importanza del voto rispetto ai temi ambientali in questo contesto. Quindi ritorno su di te Caterina, se dici. Certo. È importantissimo votare, è importantissimo votare e cercare di fare in modo che diciamo che queste conquiste, anche sociali che avevamo fatto attorno al Green Deal, in qualche modo vengano rimesse sul tavolo, perché non è detto che non possano essere rimesse sul tavolo, dopo di che quello che succederà in Europa avrà delle dirette conseguenze anche su quello che succederà in Italia. Per cui è fondamentale esserci ed è fondamentale fare capire che non può esistere una agricoltura. A me piace molto sintetizzare una parola, sintetizzare una frase. Dobbiamo tutti riuscire a pensare che per 50 anni ci hanno spinto a massimizzare la produzione. Come diceva anche Riccardo, un buon agricoltore era quello che sapeva mettere fertilizzanti, pesticidi in quantità più che abbondante nei momenti giusti per riuscire ad avere una grande produzione e più produceva per ettaro, più era un bravo agricoltore. Non è più così. La parola da sostituire con la parola di intensificare, massimizzare la produzione è quella di ottimizzare la produzione. Cerchiamo di capire questa cosa perché è fondamentale. Non manca il cibo, comunque una quantità enorme di prodotti agricoli sono importati dall'Europa e poi l'Europa li esporta a sua volta. In compenso un agricoltore capace è un agricoltore in grado di ottimizzare se il prezzo del fertilizzante triplica nel giro di un anno, non ha senso continuare a utilizzare un fertilizzante per aumentare la propria produzione. Forse converrà diversificare, integrare delle leguminose, cercare di avere delle tame, cioè fare in modo di utilizzare dei sistemi, stiamo parlando di agroecologia, che siano molto più in sintonia con la natura, che si basino non su un utilizzo sempre maggiore di tecnologie e di input, ma della capacità biologica naturale del sistema per sostenere la produzione. E come diceva anche Riccardo, sono stati un pochino abbandonati questi agricoltori e allo stesso tempo noi consumatori, noi persone, non abbiamo capito che cosa vuol dire fino in fondo un cibo di qualità, un cibo che sia prodotto bene e che sia legato alla nostra salute e come la nostra salute e la salute dell'ambiente siano inestricabilmente legate. Allora è veramente importante, come è importante in questo momento questo seminario, capire che è possibile adottare dei sistemi di produzione diversa che allo stesso tempo aiutino l'agricoltore a mantenere il proprio business, a mantenere la sua produzione, a mantenere un ambiente pulito in termini di acque non inquinate, in termini di biodiversità, di superficie, una superficie della sua terra che è anche dedicata a ospitare gli uccelli, a ospitare delle forme di vita che non sono direttamente amiche o nemiche della natura ma che fanno parte di un sistema biologico e in qualche modo se tutti riusciamo a capire l'importanza di adottare un diverso tipo di produzione che non massimizza ma che ottimizza le risorse che abbiamo a disposizione, in questo modo riusciamo ad andare avanti. Questo che cosa vuol dire? È necessario assolutamente una partecipazione attiva di tutti voi. Un'altra cosa di cui parlava prima Riccardo, l'ha detto molto elegantemente, è questi grandi gruppi di interessi che perdono business, cioè se tu riduci la vendita dei pesticidi, chiaramente la buyer non sarà tanto contenta, scusate se ho fatto un nome a caso. Allora, in qualche modo dobbiamo tutti riuscire a capire, trovare delle vie in cui si possano usare dei prodotti diversi ma che non inquinino, che non residuino nel cibo che mangiamo, per cui noi dobbiamo continuare a sostenere gli agricoltori perché facciano in modo che abbiano una produzione di qualità e in qualche modo che ricevano sussidi enormi, gli sussidi enormi della PAC in questo momento che vanno tendenzialmente ai grandi agricoltori, per cui in questo momento la gran parte dei sussidi va al 20% degli agricoltori. Questo non è giusto, bisogna fare in modo che questi sussidi vadano agli agricoltori virtuosi, che tutti conoscano di più chi sono questi agricoltori virtuosi, e che questi agricoltori vengano accompagnati nella loro transizione. Non è semplice, io credo che tutti voi quando date un po' di fertilizzante alla vostra piantina fiorita, eccedete, perché è facile, dai mettiamone un po' di più che così è più bella. Lo stesso fa l'agricoltore, per cui cercare di capire qual è l'equilibrio giusto, l'equilibrio biologico degli input che deve mettere nel suo terreno non è una cosa semplice, è importante dare formazione a lui e a tutti noi che consumiamo. Grazie mille. Riccardo, invece la tua divisione in prospettiva a partire dal 10 giugno, qual è? Allora, un po' pessimista, nel senso che l'aria che gira in questo momento non è proprio l'aria più favorevole per un pensiero europeista in generale, e questo anche perché la discussione che abbiamo sull'Europa si limita in molti casi a, come dire, discutere di tecnicismi e non spiegare qual è la sfida di essere europei oggi e di avere... Abbiamo perso, forse. Caterina, tu senti? Sì, io sento. Vuoi che vada avanti? Vuoi che parli io finché Riccardo è collegato? Riccardo? Adesso? Mi sentite adesso? Adesso sì, sì. Ti abbiamo perso un minuto, però adesso ti sentiamo. Questi sono gli effetti del digital divide di chi sta in campagna, senza la fibra. Scusate, ma è così. Non mi preoccupare. Quindi dicevo che abbiamo un problema del fatto che non si discuta o non si mettono in luce le visioni di Europa e i valori che abbiamo dietro, e si parla solo della parte più economica. D'altronde, invece, sulla parte agricola, noi abbiamo di sicuro una sfida nel rinnovare il futuro Green Deal con elementi di concretezza che sono mancati in questi cinque anni. E questo dipenderà tutto da chi sarà alla Commissione e come sarà organizzato il Parlamento. Quindi il voto che faremo a giugno avrà un impatto fortissimo sulle politiche dei prossimi cinque anni. Devo dire che non tutto è stato così negativo in questi ultimi mesi, perché il 24 aprile di quest'anno, che è stato l'ultimo giorno di lavoro dei parlamentari europei, oltre ad aver votato una serie di cose negative, i parlamentari hanno anche approvato la prima bozza di regolamento sulle sementi proposto dalla Commissione. In questo caso il testo che hanno votato è un testo molto più positivo per noi, perché per la prima volta, giusto per fare un esempio, la gestione dinamica della diversità in campo è uno degli obiettivi di questo testo di regolamento che parla anche del permettere lo scambio tra agricoltori a livello locale. Quindi ci sono tutta una serie di novità in questo regolamento che poi a settembre passerà la discussione tra Commissione, Parlamento e Consiglio nel Trilogo. Quindi alcuni atti sono stati negativi negli ultimi mesi, altri come questi positivi. Diciamo che da settembre prossimo con la nuova Commissione capiremo qual è la volontà degli stati membri anche, perché comunque sono gli stati membri che poi esprimono una parte del volere a livello europeo rispetto al Green Deal che abbiamo avuto fino a oggi. Rispetto ai pesticidi, quello che io penso che sia, come dire, drammatico, un po' lo dicevo anche prima, però vorrei risottolinearlo, è l'assenza di assistenza tecnica. Cioè non possiamo immaginare che il nostro mondo agricolo possa fare una transizione senza avere un supporto dedicato da parte di un sistema di assistenza tecnica. E questo non c'è più, ormai l'assistenza tecnica è diventata quasi tutta privata, quindi o fatta dalle ditte, o fatta in parte quando ci riescono dai sindacati, mentre abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, perché ormai in campagna chi fa agricoltura industriale, quindi grosse cooperative, quel mondo diciamo così più produttivo legato alla grande distribuzione, sta attento a cambiare le molecole, quella adesso non si può più, quell'altra esce tra tre mesi, questa verrà cancellata tra un anno e fanno dei cocktail per riuscire a stare dentro i residui che sono controllati soprattutto dalla GBO e quindi lì stanno attenti, però è un mondo che sta diventando molto schizofrenico, dove invece sarebbe opportuno avere delle linee guida, un lavoro fatto dalle politiche pubbliche che possano dare supporto non solo con i soldi e quindi con la PAC, ma anche con l'assistenza tecnica agli agricoltori in campagna. Noi avevamo un tempo un sistema di assistenza tecnica più o meno pubblico gestito a livello regionale e lo abbiamo smantellato in questi ultimi 10-15 anni e questo è stato drammatico. Ok, quindi diciamo una visione positiva ma non troppo rispetto ai prossimi anni diciamo. Io ritorno su Caterina perché appunto stasera parliamo di agroecologia e Caterina appunto come vi ho detto prima è esperta di questo tema. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte tra virgolette dell'agroecologia in Italia e anche come si è sviluppata, come si sta sviluppando, anche a partire un po' da quali sono poi di fatto le politiche messe in campo per sostenere questo sviluppo. Magari l'altro giorno quando ci siamo sentite parlavi un po' di, citavi come è nata l'agroecologia, mi avevo incuriosito molto questa cosa qua, se magari vuoi fare anche un cenno su questo aspetto che è molto interessante. Certo, certamente. L'agroecologia è una parola che esiste, è una scienza che esiste da più di cento anni, in verità nasce come scienza, nasce come movimento dei contadini, in America Latina era molto importante legato a tutti i movimenti dei Sintierras, cioè i piccoli agricoltori che lavoravano ma non avevano la proprietà della terra e nasce come un sistema che si basa, collabora con la natura per ottenere la produzione di cibo di cui abbiamo bisogno. Per cui ha una forte valenza politica, è nato prevalentemente prima negli Stati Uniti allo stesso tempo in America Latina, era molto forte, poi è stato forte in Asia. Adesso noi diciamo che praticamente il cento per cento dell'Africa, tranne le grandi aziende agricole che ci sono, è naturalmente agroecologica perché non avendo possibilità ai piccoli agricoltori di comprare trattori, fertilizzanti, pesticidi, non hanno accesso facilmente all'acqua, si basano molto spesso sulle risorse naturali a loro disposizione. Qui ritorniamo al discorso della formazione, questo è un bene ma bisogna farlo in modo cosciente, capendo la capacità della natura di sostenere la nostra produzione e non distruggendola. Per cui è anche molto importante capire che allo stesso tempo un'agricoltura che si basa solo sulla natura può creare deforestazione, può creare erosione dei suoli, degradazione dei suoli, per cui questa agroecologia che è stata così importante in giro per il mondo è arrivata abbastanza recentemente in Europa ed ha avuto un forte impulso scientifico e di fatto è un po' il contrario che nel resto del mondo, mentre in Europa ha un forte impulso scientifico ed è comunque legata anche a dei movimenti sociali per la giustizia sociale e l'agricoltura sociale, è relativamente poco forte ancora a livello politico, ecco perché si stanno facendo grandi azioni di informazione, prima si parlava di informazione degli agricoltori ma bisogna anche informare chi fa politica, chi fa le regole, chi fa i sistemi di monitoraggio, per cui si sta facendo un grosso lavoro in Europa per informare, per fare in modo che questa PAC venga sostenuta, che gli aspetti ambientali e sociali di questa PAC non vadano persi e soprattutto in verità a livello europeo si sta già pensando alla prossima e lo stesso vale per l'Italia, un cenno sulla prossima e poi torniamo in Italia sì, in questo momento il bicchiere può essere mezzo pieno e mezzo vuoto, non c'è una grande fiducia che la prossima PAC sarà molto meglio, molto più ambientale di questa attualmente, in verità non c'è scelta, nel senso che l'agricoltura è causa di cambiamento climatico, l'agricoltura è vittima del cambiamento climatico, produce delle fortissime quantità di inquinamento, per cui in qualche modo se la transizione non avvenisse dovrà avvenire per forza, per cui facciamo in modo di accompagnarla e di non trovarcela di un tratto forte come qualche cosa da subire anziché da gestire. In Italia in verità, come al solito, ci sono tantissimi casi di agricoltori virtuosi e non parlo solo del mondo biologico, parlo di tantissimi agricoltori in grado di gestire delle piccole aziende zootecniche, soprattutto nelle zone montane, in grado di fornire non solo prodotti ma quello che si chiamano servizi ecosistemici, detti anche beni comuni, per cui un buon agricoltore può produrre ma è anche in grado di gestire un bosco che evita alle montagne di franare, è in grado di pulire le strade, è in grado di gestire in modo circolare la propria azienda in modo che il concime prodotto da una limitata quantità di animali venga poi utilizzato per fertilizzare le culture. Per cui in Italia abbiamo tantissime persone che lo fanno, abbiamo degli esempi di aggregazione sia sociale come agricoltura sociale ma anche i famosi biodistretti di decine di agricoltori in grado di associarsi e di fare un'agricoltura diversa, abbiamo degli esempi, la Sicilia si sta dando una legge di agroecologia, per cui una legge in cui i prodotti col tempo prodotti in Sicilia saranno agroecologici, per cui saranno molto più attenti a quello che sono le risorse naturali e allo stesso tempo daranno delle garanzie anche di qualità, di sicurezza e di benessere alle persone che li consumano. Per cui in Italia se noi riusciamo a utilizzare questa politica agricola comune nel modo giusto, fornendo assistenza agli agricoltori, insegnando alle persone a mangiare diversamente, a mangiare di qualità, a ridurre la quantità di carne mangiata, a scegliere bene il tipo di carne mangiata. Se riusciamo a fare questo cambiamento, questa transizione tutti assieme andiamo tutti nella direzione giusta e l'Italia può utilizzare tutti i finanziamenti che arrivano dall'Europa per accompagnare questa transizione. Può, l'importante è che lo faccia, per cui dopo la pressione che dobbiamo fare in Europa dovremo fare altrettanta pressione anche in Italia affinché questa trasformazione avvenga. Grazie mille. Gli esempi virtuosi di cui parli e accompagnati appunto da una volontà politica ci fanno capire che si può fare, insomma non è una cosa così utopica assolutamente. Magari sugli esempi virtuosi poi ci torniamo ancora. C'è un'altra tematica di cui ci piacerebbe parlare stasera e mi rivolgo a Riccardo. A inizio del 2024, adesso non vorrei dire una... non dovrei sbagliarmi, insomma a inizio del 2024 c'è stato il via libera dal Parlamento europeo alla deregolamentalizzazione dei cosiddetti nuovi OGM, sempre tra virgolette. E molte organizzazioni ambientaliste, ma non solo, avevano chiesto un voto contrario che di fatto non c'è stato, non è avvenuto. Intanto cosa sono questi nuovi OGM? Perché appunto si chiamano nuovi OGM e soprattutto cosa comporta l'approvazione via libera da parte del Parlamento europeo su questa, insomma, specifica? Sì, allora, intanto il nome. Noi li chiamiamo nuovi OGM. In realtà la letteratura scientifica e anche la politica li chiama in Italia tecniche di evoluzione assistita e in Europa NBT o NGT, quindi nuove tecniche di miglioramento generico. Ovviamente il nome OGM spaventa di più rispetto all'acronimo TEA e questo è uno dei motivi per cui è stato scelto questo acronimo in Italia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una tecnologia abbastanza recente, sviluppata circa una dozzina di anni fa, che sostanzialmente consiste nel poter avere una specie di forbicetta molecolare che taglia il DNA nei pezzi, nelle parti dove noi vogliamo andare a... in qualche modo ha creato una mania, quella che si viene definita la CRISP mania. Questa tecnica si chiama CRISP, dal nome dell'enzima che hanno scoperto nei batteri, e da allora, quindi da circa il 2012, non c'è cosa che non venga detto si possa... legata a questa nuova tecnologia. Il punto era se questa tecnologia dovesse seguire la stessa normativa degli OGM, quindi essere regolamentata come oggi sono gli organismi geneticamente modificati, che ricordiamo che in Europa abbiamo la normativa più stringente, che prevede un'approvazione caso per caso. Siccome questa approvazione caso per caso era stata giudicata dal mondo scientifico, ma anche dal mondo politico, e dobbiamo dire anche dal mondo sindacale, troppo stringente, troppo limitante per questa nuova tecnologia, ecco che la Commissione ha fatto una proposta per cambiare le carte in tavola e cambiare le regole. E' per questo che oggi stiamo parlando di deregolamentazione, perché hanno, come dire, ridotto, reso più semplici le procedure autorizzative per queste nuove piante. La partita non è ancora finita, perché il Parlamento ha votato un testo che poi sarà negoziato con il Consiglio e anche questo con il Consiglio e con la Commissione. Però ad aprile il Consiglio avrebbe dovuto approvare il testo proprio in chiusura di mandato, ma alcuni paesi europei hanno fatto blocco, quindi hanno posto il vieto e quindi questo testo non è stato approvato. Quindi c'è la possibilità che questa cosa non avvenga, anche perché da un punto di vista scientifico la base con cui è stata fatta questa proposta è molto debole, molto carente. C'è uno studio del francese di qualche mese fa che appunto critica le modalità con cui hanno fatto questa proposta di avere un sistema di regole per quelli che chiamano NBT1, cioè aver modificato meno di 20 basi e quelli che sono NBT2 con una modifica maggiore di 20 basi. Ora insomma il succo importante di tutta questa cosa è che siamo dentro un pensiero ancora e purtroppo riduzionista in agricoltura, che pensavamo che fosse finito all'inizio degli anni 2000, quindi non siamo dentro quel mondo agroecologico che ci stava raccontando prima Caterina, ma veramente un pensiero riduzionista che riporta tutto al gene, il gene è una proteina, in una maniera che un sistema complesso come quello agricolo non ci serve assolutamente. È un tornare indietro del pensiero scientifico rispetto all'utilizzo anche della genetica in agricoltura. Questo non vuol dire che io sia contro il progresso, però esistono tanti progressi diversi, anche noi facciamo ricerca, facciamo miglioramento genetico, ma con delle metodologie diverse, tecniche diverse, degli obiettivi diversi, il coinvolgimento degli attori, quindi è ricerca, ma è fatta in un altro modo. E questa ideologia così pesantemente riduzionista, improntata sul gene, la troviamo un po' dappertutto nella nostra società, tanto è vero che spesso leggiamo scoperto il gene per questo, scoperto il gene per quell'altro, sono proprio impregnati da questa cosa. Però ieri c'era un articoletto su Repubblica, che consiglio a tutti di vedere, una piccola notizia, in cui hanno fatto questo studio prendendo dei capelli di Beethoven, perché ormai c'è gente che si appassiona anche a fare queste cose, e poi capendo se Beethoven aveva i geni per la musica. Ecco, questi hanno fatto questo studio e hanno detto no, Beethoven non aveva quelli che noi consideriamo i geni che ti danno una predisposizione a essere musicista, però era Beethoven. Ecco, quello studio ci dice di quanto sia una stupidaggine questo nostro concentrarsi sui geni, dimenticandoci quello che c'è intorno all'ambiente. Molto chiaro, direi. Io intanto non ho contezza di quante persone ci sono in diretta, perché ho paura di premere qualche tasto sbagliato, però se ci sono delle domande e chi è in diretta vuole farle può scriverle nei commenti e poi le recuperiamo e le giriamo Caterina e Riccardo. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa, io ritornerei Caterina sugli esempi virtuosi, perché diciamo che il tuo sguardo è un po' più, anzi è un po' più europeo, in qualche modo se posso dire così, quindi ti chiedo, prima ci hai parlato un po' di quello che succede in Italia, degli esempi che ci sono, hai citato anche un po' la Sicilia. In Europa invece dov'è che troviamo gli esempi più virtuosi, se ci sono delle zone magari in cui sono più presenti e anche come si differenziano magari rispetto anche al nostro paese, anche per le motivazioni appunto che li rendono diversi. Certo, prima ti volevo dire ancora una cosa che mi sono dimenticata, però posso citarla sempre italiana, perché il 22 febbraio un insieme di associazioni, fra cui Greenpeace, ISDE, che sono i medici per l'ambiente, Terra, il WWF, hanno presentato una proposta di legge dedicata alla transizione ecologica della zootecnia intensiva nel nostro paese. Per cui questo per dirti che effettivamente ci muoviamo, la gente c'è ed è brava e ha una visione. Una delle cose che possiamo fare è sostenere, richiedere, vedere come va avanti, perché a fronte di pochissima, diciamo, zootecnia intensiva che c'è in Italia e tra l'altro è tutta concentrata in certe aree, in certe zone, abbiamo una grande capacità di fare una zootecnia più basata sui pascoli delle zone meno fortunate, delle zone alpine piuttosto che dell'appennino e abbiamo una capacità di produrre non solo in modo molto specifico, ma avere anche un insieme di animali che possono essere al pascolo. Ci sono degli esempi, tantissime piccole aziende agricole con cui lavoriamo, che fanno animali polli, polli o vaioli al pascolo. Queste vengono messe in gabbie, che vengono praticamente mosse tutti i giorni, ma stanno nell'erba, per cui evitano tantissimo problemi di socialità fra gli animali e problemi di malattie che si trasmettono quando gli animali sono allevati in modo intensivo. Per cui non solo sosteniamo quello che sta succedendo in Europa, ma continuiamo a essere attivi e vigili e a supportare quello che sta succedendo di buono in Italia. Scusami questo, me l'ho dimenticata prima. Invece tornando all'Europa, vi volevo citare la città di Malmo, che è nel sud-sud-sud della Svezia, in quella piccola zampetta che arriva vicino alla Danimarca, praticamente, che ha deciso, si è dichiarata, la prima città agroecologica europea, dove tutto è agroecologico, il cibo, ma anche il modo in cui le persone si muovono, cioè secondo i concetti, gli elementi dell'agroecologia, per cui la circolarità, un'economia circolare, un insieme di mercati locali. Lo stesso sta avvenendo a Barcellona, dove c'è da parecchi anni, ci sono dei grandissimi movimenti dei cittadini che stanno cercando di uscire da un consumo nelle grandi distribuzioni e fare in modo di stare legati di più al loro territorio, agli agricoltori che vivono nelle zone attorno alla città. Per cui queste alleanze che stanno avvenendo sempre di più in Europa, nelle grandi città, fra cittadini e agricoltori, perché entrambi hanno capito che c'è bisogno uno dell'altro. L'agricoltore ha capito che ha bisogno di avere un mercato alternativo e non dipendere da una grande industria che fissa il prezzo del pomodoro, della zucchina tendenzialmente strozzando l'agricoltore, il quale si rifà su chi lo produce, per cui paga poco i lavoratori, cerca di pagarli in nero, fa quello che può perché riceve un prezzo troppo basso per il proprio prodotto, mentre quando riesce ad avere dei mercati diversi e appunto ha accesso a dei mercati cittadini che sono fatti da milioni di persone che mangiano quotidianamente, questo è un beneficio sia per i cittadini che per gli agricoltori. Sta avvenendo un pochino dappertutto, sta avvenendo anche in parecchie città dell'Inghilterra, in Germania questi movimenti sono molto forti, per cui assistiamo un pochino dappertutto a dei movimenti dal basso, è quello che sto dicendo, cioè quando la politica alle volte non ha ancora capito che ci vuole questa transizione, le alleanze fra tutti noi e chi produce il nostro cibo sono fondamentali per richiederla questa transizione. Diciamo che i politici, che sono quelli che dovrebbero dare le norme, dare le direzioni per vedere in che direzione va la nostra Europa, la nostra Italia, in questo modo tendono a subire le richieste degli agricoltori e dei consumatori per un nuovo modello di agricoltura. Certo. Riccardo, prima tu parlavi di una mancanza di assistenza verso gli agricoltori, di assistenza tecnica, rispetto anche ai sindacati e quant'altro. Le istanze che ci sono, com'è che ci si può fare in modo di dar voce a queste istanze, verso l'associazione dei contadini, verso i sindacati, non so se anche magari come rete semirurali adottate delle buone prassi, tra virgolette, per interfacciarvi e far sentire un po' quelle che sono le necessità, questo insomma. Sì, allora, di sicuro esistono delle realtà come la nostra che fanno un lavoro nelle campagne di supporto, assistenza tecnica agli agricoltori, nate negli ultimi 10-15 anni, da chi segue più la parte zootecnica, più la parte del suolo, chi come noi la parte dei semi. Quindi c'è un tentativo fatto da una parte di società civile di dare supporto agli agricoltori in questo senso. Quello che ci manca è che da un lato siamo molto piccoli come esperienza, noi siamo nati nel 2007, quindi ormai qualche anno fa, però non abbiamo ancora quella forza, quella capacità di rispondere alle aspettative di tutti gli agricoltori, cioè noi siamo veramente tempestati da richieste di partecipazioni, sviluppare piccoli progetti, dare assistenza sulla qualità del seme, a cui non riusciamo a dare risposta perché non abbiamo la capacità organizzativa e basicamente economica per riuscire poi a soddisfare tutte queste aspettative e come noi anche le altre realtà con cui collaboriamo. L'altra cosa che ci manca è cominciare tra noi, quindi realtà che lavorano con gli agricoltori in questo mondo dell'agroecologia, è quello di mettersi più in rete, fare rete fra di noi, riuscire a mantenere le nostre specificità, le nostre identità associative, ma contemporaneamente fare di questa diversità culturale che abbiamo una ricchezza. Non è facile mettere in rete realtà organizzate, soprattutto perché poi la vita di tutti i giorni delle nostre associazioni è molto emergenziale, è basata su risolvere i problemi che quotidianamente abbiamo, quindi è molto complicato riuscire poi a costruire questa rete. Però ecco, è un lavoro che stiamo cercando di fare insieme ad altre organizzazioni dentro il quadro del modello agroecologico italiano, quindi non so se sarà una risposta in grado di andare a colmare il vuoto che c'è di rappresentanza e di assistenza tecnica nell'agricoltura italiana oggi, però di sicuro vuole essere un tentativo che speriamo nei prossimi anni possa avere un seguito e possa crescere. Speriamo assolutamente. Abbiamo cinque minuti, io ne approfitterei intanto per, non so se ci sono delle domande che arrivano, se la regia mi assiste e mi dice se ci sono oppure no, nel caso in cui non ci fossero ne approfitto per dire a chi ci sta seguendo che l'incontro di stasera verrà salvato sicuramente su Instagram, però lo potrete anche trovare sul canale YouTube di Vets e sul sito di Vets, quindi potete poi anche rivedervelo con calma, girarlo insomma ai vostri contatti a chi è interessato. Ne approfitto per di questi cinque minuti che ci sono anche per ricordare che su Vets è attivo un crowdfunding, quindi una raccolta dal basso per sostenere attività della redazione, per farci continuare a produrre contenuti su questi temi ma non solo e sempre nel profilo Instagram ma anche nel sito trovate tutti i riferimenti per insomma darci una mano a continuare e niente, io ne approfitterei per salutarci con calma senza dover chiudere la diretta di brutto, cosa dite? Vi ringrazio veramente per i vostri contributi e ringrazio anche Gloria che adesso non è più dentro, però anzi sì, ecco l'è tornata per la disponibilità. Sono io che ringrazio voi, te Lorenza, Caterina e Riccardo per il vostro contributo di stasera, grazie mille. Beh è un piacere vedere che in verità siamo in tanti e che ci sosteniamo e come diceva Riccardo Facciamo Rete, Facciamo Rete perché di problemi sia ambientali che economici che sociali ne abbiamo tanti davanti ma siamo in tanti e se la pensiamo in un modo giusto riusciamo a muovere le cose nella giusta direzione, per cui è stato un piacere, grazie. Sì anche per me vi ringrazio con un augurio che appunto a settembre prossimo le elezioni possono andare in un modo completamente diverso da quello che ci immaginiamo oggi perché sarebbe bello per dare seguito alle sfide che abbiamo e insomma abbiamo bisogno di avere un supporto dell'Unione Europea rispetto a tutto quello di cui abbiamo discusso e quindi insomma è un momento cruciale sia per l'Italia che per l'Europa le prossime elezioni di giugno. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, buona serata a tutti e a tutti. Ciao. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.